Un'altra esplosione, la seconda in tre giorni, si è verificata a Trani, questa volta ad essere colpito in circolo privato, sito in via Ferrara al Civico 14. L'esplosione è stata avvertita l'1.15 di questa notte, ma la Polizia di Stato è riuscita ad individuare il luogo preciso soltanto dopo circa un'ora di perlustrazione, in quanto nessuno dei residenti nei condomini vicini ha segnalato nulla. Il boato è stato avvertito sino in centro e i danni, a quanto pare, sono ingenti. Forte il tanfo di esplosivo nell'area, pezzi del marciapiede sono stati sbalzati per strada e alcuni hanno raggiunto addirittura il marciapiede opposto. Torna prepotentemente il problema della sicurezza in città. Le indagini della Polizia sono in corso al fine di scoprire i responsabili, le ragioni del gesto ed eventuali collegamenti con l'altro attentato esplosivo dello scorso giorno.